Salve, rieccoci all'appuntamento Ti racconto un libro di Giovanna Fileccia e oggi vi presento Meditare e sentire di Antonino Schiera un libro che ho avuto l'onore di presentare pochi mesi fa a Palermo insieme alla giornalista Marianna Labarbera tra le tante poesie contenute nel volume ho scelto di leggervi Sentimenti sotto di me non più dura roccia ma l'immensità del mare volgo lo sguardo da est a ovest, da nord a sud per ritrovarti in questo viaggio tra i sentimenti che di notte diventano dolore e che di giorno si rischiudono come fiori nel loro primo incontro mattutino Meditare e sentire è proprio questo ascoltarsi anche di notte come dice il nostro autore e poi sentire le emozioni, le vibrazioni e scriverne, farle diventare poesia queste sentimenti secondo me è una poesia che potrebbe benissimo raccontare il processo di scrittura eppure c'è un altro elemento, l'elemento della contemplazione perché l'autore scrive sono sotto di me non più dura roccia ma l'immensità del mare e da lì, da quest'immensità del mare volge lo sguardo ovunque e sta lì a ritrovarti, a ritrovarti questo verbo che potrebbe essere una persona potrebbe essere una parola potrebbe essere un sentimento potrebbe essere la poesia stessa quindi la meditazione diventa sentire e il sentire diventa sentimento e tutto quello che ci circonda diventa motivo per contemplare e allo stesso tempo arricchire chi contempla e con questo io vi ringrazio vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima